Aspetto un figlio, Jacinto. È la verità. Ho tanta paura, credimi. Specialmente ora che è tornata Mariana a Trio. Jacinto. Per quale motivo non mi dici niente? Ma perché non mi parli? Ti sto dicendo una cosa grave come questa. Ti sto dicendo una cosa importante come questa e tu non mi dici nemmeno una parola, perché? Ti odio, Speranza. Ti odio. Jacinto, no. Jacinto. Sì. No. Mi hai fatto solamente del male. E questo da sempre. Da quando ero bambino. No, ti prego. Per questo motivo ti odio, Speranza. Basta. Sì. E pensa che ero venuto da te disposto a rinunciare a quello che avevo progettato. Ero venuto a parlare con te. No. Però adesso non ne voglio sapere. Con te ho chiuso ormai. E adesso sì. Adesso mi auguro che... che in quello che sto facendo ci vada di mezzo Julio Mendisaro. Jacinto. Perché odio anche Julio Mendisaro. Ti prego. Jacinto, no. Aspetta, non te ne andare via. Aspetta. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.